Ma che cazzo urlato? Ho acceso la luce, era meglio che... usare un bicemulare! Almeno dillo però! Oh mio Dio! Figata, magari ci sono delle foghe! Ma che figata è figata? Che ponga a far questo bordello qua? Fica un leone! Io dico che c'è sicuramente qualcuno in quell'altra stanza. E vabbè, anche se ci fosse qualcuno siamo in quattro, anche se fosse grosso come un gorilla, gli facciamo il culo! Eh, gli darò una lezione che non dimenticherò mai! Sì, al massimo lo puoi assorbire con il tuo gas uccidi! Ma questo è il bastardo che ti ha aggraffiato l'auto! Vabbè... Roba da intenditore! Roba da intenditore! E questo qui adesso che cazzo c'ha da guardare? Non si può neanche leggere qualcosa in pace! Un parcheggio perfetto! Oi Matt! Senti, quella macchina ho finito, te la riporto tra... un'oretta? Boh, a posto! Allora dai, tra pochissimissimo te la riporto a casa! È perfetta, neanche un graffio! Porca puttana, sto stronzo non la pianta proprio di guardarmi! Ce la faccio prima di andarmene! Ma che cazzo! Pezzo di merda! Merda... Merda 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 merda... E adesso chi glielo dice? Dai! Non me la sarete mica presa! Era un tipo scherzetto, così, un ottimo! Per passare la serata! Vi avrei fatto uscire! Certo, anche l'ora! Aspetta, aspetta! Ma... Ma tu sei Merinovanzuro! Si! Quello che fanno le recensioni sui videoclop! Io ti riempio di botte! Dai, su ragazzi! Non potete fare così! Era uno scherzo! Siamo persone civili! Ragioniamo! Dai, sei il mio fan! Non puoi far più questo! Ti dovi fare un brutto sociofatico di merda! Io questa ora dovrei tenere il mio nipote! Mia sorella, se non sono a casa, mi ammazza! Mi ammazza! Ti vorrei tanto uccidere! Davvero mi hai rigato la macchina? Sì, è stato lui! Dovresti tenere più puliti i tuoi servizi igienici! Sì, ma prima dovresti dare una ripulita a te stesso! Hai... Una caramella per i capelli! Ah! E poi che razza di nickname è? Meryl 91! Meryl! Ma cosa sei una donna? Beh, è in onore di Meryl in stream! Ma se ormai avrà 70 anni! Ma io me la farei! Ad ogni modo troveremo un sistema per metterci a posto! Ti va? Tu bene? E change la 4000 Beh, alla fine è stato divertente. Mi chiamo Jossar su Facebook, aggiungetemi che ci sentiamo qualche volta. Sì, in effetti potremmo uscire. Anzi, porta anche il mio fidanzato, secondo me potreste stargli simpatici. Fidanzato? Sì. Vabbè, dai ragazzi, allora ci sentiamo su Facebook e ci organizziamo. Beh, dai, allora noi due siamo a posto. Dai ragazzi, non potete lasciarmi qui su. Era uno scherzo, non me la sarete mica presa. Dai, ma di chi? Devo anche andare in bagno. Dai, ma di chi?